Abbiamo dato vita alla creatività digitale. Per poi inventare la soluzione che avrebbe cambiato per sempre il mondo della comunicazione visiva. Ogni giorno ti aiutiamo a sfruttare al massimo i nostri prodotti per la crescita della tua azienda. Sosteniamo la tua formazione e la tua professione con strumenti semplici e innovativi. E la passione è tale che siete più di 7.000 a formare una grande famiglia. Abbiamo svelato la tua anima, trasformato il tuo futuro. Ti abbiamo dato spazio per sfogare l'immaginazione, aperto le porte per premiare il tuo lavoro e creato nuove opportunità per il tuo business. Diamo il massimo per esserti sempre accanto con la competenza e la professionalità e tutelare in ogni momento il tuo lavoro. Tutto questo perché al centro di Rova ci sei tu. Grazie a te. Grazie a tutti.